ciao a tutti sono pina e oggi anche io vi voglio parlare della mia esperienza positiva con la palestra pura vita non solo per dire che sono bravi sono professionali perché questo ormai lo sappiamo già tutti quanti ma i miei complimenti soprattutto perché in una situazione estrema e difficile come quella che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo loro non sono rimasti indietro sono andati avanti hanno proposto soluzioni alternative molto valide che io trovo e ho trovato veramente stimolanti non so voi ma per me la difficoltà più grande è stata quella di rimanere appesa appesa ad aspettare ad attendere che tutto tornasse alla normalità forse la normalità invece quella che oggi stiamo vivendo questo è il nostro quotidiano qui dobbiamo imparare a vivere a organizzarci e la palestra pura vita ha saputo aiutarci in questo io trovo che le lezioni live online siano molto molto valide l'insegnante ti vede ti segue ti corregge ed è molto importante e adesso le lezioni all'aperto sono meravigliose io le adoro e mi trovo veramente molto bene ci aiutano a volerci bene e questa è la cosa più importante ciao a tutti